Le zone della città al buio anche in pieno centro come piazza stazione potranno tirare un sospiro di sollievo a quanto pare solo nel 2017. Il bilancio previsionale 2016-2018 del comune approvato ieri pomeriggio svincola le somme dell'anno in corso per finanziare la gara d'appalto da circa 950 mila euro. La gara si sta espletando dall'arrivo delle manifestazioni di interesse dallo scorso primo dicembre e con il vaglio delle offerte entro la metà del mese. Il bando servirà per intervenire con la manutenzione ordinaria e la sostituzione di alcune linee elettriche con la stipula di un contratto misto della durata di sei mesi. Speriamo si possa sviluppare dal 1 gennaio al 30 giugno 2017, sottolinea il responsabile di Palazzo Zanca, l'ingegnere amato del Dipartimento Lavori Pubblici. Esistono ancora cavi interrati soggetti a umidità, intemperie e cabine della corrente elettrica vetuste in tutto il territorio comunale. L'illuminazione pubblica deve coprire tutti i quartieri con efficacia. Non è decoroso per un paese civile privare interi rioni o periferie di lampioni funzionanti perché mancano le lampadine. Le aree densamente popolate avranno chiaramente la priorità, dice l'ingegnere amato, per esempio il viale della libertà, alcuni tratti della circonvalazione e a fasi alterne anche la via Garibaldi. Non si può accettare di togliere o ostacolare la visibilità in zone trafficate. L'amministrazione a Corinti risponderà al più presto per iscritto alle questioni sollevate dal consigliere comunale Libero Gioveni sul mancato affidamento e rispetto dei prezzi Consip S.p.a. per l'approvvigionamento di beni e servizi al territorio. Già ieri durante la seduta dei lavori di consiglio l'assessore alle opere pubbliche Sergio De Cola ha ribattuto che i costi dei loro appalti sono inferiori a Consip. Concluso il contratto con l'Atlantico di Chioggia, durato cinque anni, ci sono stati solo piccoli affidamenti per arrivare a fine anno. Così il Comune si prepara per la gara europea da diversi milioni di euro che si svolgerà la prossima estate.